la stoppata di Ibi che è entrato in partita con un paio di giocate difensive degne di nota Kloff c'è Ienga contro Flaccadori deve giocare uno contro uno viene raddoppiato palla fuori per Kloff e Giacchetti Ibi da tre tiro aperto per il numero 53 e adesso il Ruffini è in partita la Manitano è tornata lì grazie grazie